Ciao a tutti, sono Cristina Vissocoli della LR Immobiliare. Oggi ci troviamo in via Chiusi, nel quartiere Nuovo Salario, un'elegante zona residenziale a nord della capitale, fatta di eleganti palazzine residenziali, con a disposizione tutti i principali servizi, quali scuole, negozi e trasporti. Vi proponiamo in vendita, all'interno di un comprensorio di due sole eleganti palazzine in cortina, costruite nel 1970, provviste di ascensore ma senza servizio di portineria, un'interessante bilocale, posto al terzo ed ultimo piano con doppia esposizione. L'appartamento si presenta in buone condizioni ed è così composto. Dall'ampio ingresso si accede al soggiorno, provvisto di un piccolo ma assolato balcone, presente un condizionatore e un bellissimo pavimento in marmo. Attraverso il corridoio troviamo alla nostra sinistra una cucina abitabile con porta finestra che conduce allo stesso balcone del soggiorno. Proseguendo troviamo un ampio bagno con vasca e una grande finestra. Infine una camera da letto matrimoniale con pavimentazione in parquet da cui si accede ad un altro più grande balcone per una superficie commerciale complessiva di circa 80 metri quadri. Le finestre sono in legno e vi sono le grate di sicurezza e le zanzariere. La proprietà ha come pertinenza un posto auto coperto di 16 metri quadri e in più vi è la disponibilità di un altro posto auto nel vialetto condominiale ma non regolamentato. Infine si può usufruire di una soffitta come spazio indiviso a disposizione dei condomini. Il riscaldamento è centralizzato e le spese condominali si aggirano intorno ai 100 euro mensili. La rendita catastale è di 970,94 euro. Potete visionare le foto di questo immobile e la planimetria sul nostro sito lrimmobiliareroma.it e su tutti i nostri canali social. LR Immobiliare, la tua casa in buone mani!